Musica Venerdì 31 ottobre, Santa Lucilla. È il 304 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 61 alla fine. Il sole sorge alle 6.48, tramonta alle 16.59. La luna si leva alle 13.21, tramonta a mezzanotte e 0.02. Una commissione di artisti veneziani, nominata allo scopo, presenta un elenco di 58 dipinti. Secondo le intenzioni del governo Veneto, dovrebbero essere ceduti per un prestito in denaro necessario a fronteggiare le spese di guerra. I veneziani protestano violentemente e il progetto viene subito abbandonato. Musica Le previsioni per domani Parzialmente soleggiato per presenza di sottili nubi alte, probabili foschie o nebbie in pianura, specie centro-meridionale, e in qualche valle prealpina nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti Temperature senza variazioni di rilievo o in leggero aumento, permangono condizioni di marcata in versione termica notturna in pianura e nei fondovalle. Musica 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 Musica